Priscilla Asmr Ciao a tutti Come state? Spero che vada tutto 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 bene io sto abbastanza bene diciamo che ci sono tantissimi alti e bassi più bassi che alti in questo momento però non voglio buttarvi tutto questo attosso a voi anche perché sono dei problemi all'interno del contesto comunque familiare quindi non me la sento sono cose molto delicate comunque parte questo questo è un video un po' per tenervi compagnia e un po' per coccolarvi un pochino e ho deciso di fare un trigger che avevo pensato già da un pochino non vi aspettate niente di fantasmagorico però avevo trovato questo piccolo oggettino da tiger e secondo me è molto rilassante spero che possa esserlo anche per voi perdonate i rumori di sottofondo ma sto registrando questo video in pieno giorno e sebbene le persone dovrebbero stare a casa in realtà si sentono tantissimi rumori dalla strada più che altro gli autobus che continuano a passare e sono quelli che fanno più rumori di tutti insieme ai camion quindi vado a prendere questo piccolo oggettino e ci rivediamo tra pochissimo l'oggetto in questione è questo qui che dice tiger essere uno spazzola unghie ma mi viene un brivido soltanto ad immaginarlo per spazzolare le unghie però invece amo tantissimo il trigger che produce buona l'oggetto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come avrete notato sto facendo il video con il Blue Yeti perché so che vi è mancato tantissimo e quindi eccoci qua. Grazie a tutti. 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 questo video ovviamente mettete like e lasciate un commentino, magari con un pensiero felice che ne ho tanto bisogno e penso ne abbiate bisogno anche voi, in modo che tutti possano leggere commenti positivi di altri utenti. So che non è il momento più idilliaco per chiedervi una cosa del genere, ma penso che sia proprio questo invece il momento in cui dobbiamo sforzarci a trovare qualcosa di positivo, anche se fosse soltanto una su 20, però dobbiamo aggrapparci a quell'una cosa, a quell'unica cosa, perché quella ci servirà come linfa vitale per reggere questa situazione, che non so quando finirà, spero il prima possibile. Cosa ne pensate di questo freak? Mi piace un sacco. Ho fatto un make up super semplice, proprio al volo, perché era struccata fino a... 20 minuti fa. Correttore, blush, terra, lip gloss, mascara, eyeliner, fine della storia. Molto velocemente, niente fondotinta, niente cipria, niente... non lo so, qualcos'altro. E volevo ringraziarvi per tutti quelli che mi seguono su Instagram e con cui intrattengo veramente delle anche piacevoli conversazioni privatamente. Mi fa piacere insomma che mi seguiate anche lì, perché lì mi vedete proprio nella vita reale. E' bello come si ricevano feedback positivi anche facendo vedere realmente chi sei oltre a YouTube. E quindi niente, ne sono molto contenta. E volevo dirvi se cortesemente potreste evitare di mandarmi le richieste su Facebook, perché mi sento in colpa a non accettarvele, ma non ve le accetto, perché su Facebook, tralasciando i primi due anni in cui ero piccola e accettavo cani e porci. Ma adesso io accetto soltanto chi conosco e quindi mi dispiace poi che magari ci rimanete male o mi scrivete in privato che vorreste che io vi accettassi l'amicizia. Però ecco, Facebook è l'unica piattaforma che sto cercando di mantenere privata, anche se me ne sto comunque allontanando per diverse ragioni. Quindi se vogliamo tenerci in contatto abbiamo YouTube, abbiamo Instagram e abbiamo l'email e anche TikTok, quindi se volete potete seguirmi solo in queste piattaforme. E poi volevo dirvi che la wishlist è stata aggiornata, quindi ci sono tante, 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 quindi se viva di fare un pensierino al canale per vedere magari gli oggetti che avete regalato sui video e per aiutarmi in questo progetto, lì potete trovare quello che volete e fare direttamente un ordine che arriva a casa mia. Magari se volete potete farlo anche dopo la quarantena, insomma, se siete contro il fatto che i guerriari ancora lavorino, per esempio, io su questo ho sentito diverse opinioni e in realtà ho visto che sono abbastanza messe in sicurezza le persone che lavorano in questo settore, tant'è che mi sono arrivati dei pacchi e me li hanno proprio lanciati davanti alla porta e se ne sono andati, quindi non hanno molti contatti umani in realtà, poi avevano la mascherina, i guanti e così anche come Glovo, Just Eat eccetera, ho ordinato solo una volta su Glovo perché in un mese e mezzo volevo la pizza e ho fatto un po' un capriccio, però anche lì ecco sono stati veramente esemplari giustamente e quindi io ho già pagato online proprio per non metterli nella condizione in cui dovessi dargli dei soldi in mano e quindi avere un rapporto più ravvicinato, ho voluto evitargli questa cosa, quindi ho pagato online e loro hanno citofonato e sono saliti e hanno lasciato la busta davanti alla porta e poi se ne sono andati, io poi ho aperto, l'ho presa, ovviamente non ho presa con i guanti, ho igienizzato, bla bla bla, capirò che poi sono maniaca e quindi dopo insomma, tra l'altro, una buonissima pizza e dovrò riordinare da quel ristorante perché sono rimasta veramente piacevolmente colpita, poi sto parlando un po' di tante cose in realtà proprio perché è un video per tenerci compagnia e perché ho voglia di chiacchiare di qualcosa che sia un po' più leggero, un po' più frivola e nulla, anche perché il prossimo video sarà leggermente più impegnativo anche per me a livello mentale e non di troppo però insomma è un video un po' più costruito, mettiamola così e quindi mi fa piacere fare l'occhiare con voi e niente, comunque ieri papà mi ha fatto cascare il bluietti per terra e non lo so, da qualche parte si è un po' scheggiato, un po' ammaccato, ci sono rimasta malissimo però quantomeno non si è rotto, altrimenti penso che, non lo so, mi sparavo perché ci manca pure mi si rompe il bluietti, stavo a posto proprio e niente, io credo che sia giunta l'ora di salutarci, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao